Allora, Sindaco Rossi, in questa benedetta lettera c'è un jacuzzi diretto al prefetto o è una richiesta di aiuto per una situazione che si va sempre più incancrenendo un po' a riguardo dell'emergenza migranti barra sicurezza? È una lettera molto moderata, una lettera dove non credo assolutamente si possa far riferimento al reato di diffamazione, una lettera che ovviamente adesso per esigenze di tempo non leggo nella sua interezza ma mi piaceva leggerne almeno il passo conclusivo per far capire non soltanto parte del suo contenuto ma anche il tenore di questa lettera in cui si richiede un riscontro da parte dell'istituzione del Ministero dell'Interno al fine di improntare un'organizzazione rivolta innanzitutto alla sostenibilità sociale degli stessi comuni un potenziamento delle forze dell'ordine con la reale possibilità di controllo sia sulle strutture di accoglienza sia sugli ospiti delle stesse inoltre un impegno reale a chiarire quale sia il concetto e l'obiettivo qualitativo di accoglienza che una permanenza di questo tipo può rappresentare non soltanto per i nostri cittadini ma anche per gli stessi richiedenti asilo ed è per questo che la situazione che si è venuta a creare questo inasprimento questo irrigidimento dei rapporti tra i sindaci e la prefettura mi spiace da un lato dall'altro però non le nego che mi infastidisce anche un po' perché veder ipotizzato il reato di diffamazione quando invece ripeto il contenuto e il tenore di questa lettera è stata semplicemente una esortazione nei confronti tra l'altro del governo centrale a trovare altre misure non tanto di contrasto quanto di prevenzione misure strategiche quindi piani nazionali strategici di prevenzione a questo fenomeno dei flussi migratori che ormai perdura da tanto tempo ecco lo stesso prefetto vi aveva anche esortato ad occuparvi di strade e altre cose insomma però sul vostro territorio voglio dire voi siete l'autorità preposta in realtà sì assolutamente sì anche questa devo dire una situazione un po' spiacevole anche un po' surreale quasi per certi versi perché è vero che le amministrazioni locali debbono occuparsi di servizi sociali di strade di scuole e tutte le altre competenze e responsabilità fissate dal ordinamento degli enti locali ma ricordo anche che secondo l'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza se l'autorità provinciale di pubblica sicurezza è il prefetto è anche vero che l'autorità locale in mancanza di un comando di pubblica sicurezza sul territorio è appunto il sindaco questo è il caso ad esempio del comune di cartoceto quindi a tutti gli effetti il sindaco deve occuparsi di tutta così come ovviamente tutta l'amministrazione deve occuparsi di tanti ambiti come quelli citati appunto dal prefetto in questo suo comunicato stampa qual è l'auspicio questo punto? Guardi l'auspicio è innanzitutto una distensione dei rapporti perché quello per cui dobbiamo essere accomunati prefettura e sindaci e quindi enti locali è il controllo del territorio e la sicurezza del territorio e dei cittadini ognuno nelle sue competenze ripeto che il nostro intento ed è soltanto quello di esortare ulteriormente il governo a elaborare questo piano strategico preventivo rispetto alla gestione dei flussi migratori dall'altro a istituire delle misure più stringenti anche più incisive di controllo di queste situazioni che invece si sono forzatamente insediate nei territori anche della nostra provincia e quindi dei piani che esulino da quella che è la gestione della contingenza legata all'emergenza ma che ci sia al tempo stesso anche un piano strategico molto più generale in questo senso da un punto di vista della necessità di affrontare il fenomeno migratorio da parte mia non c'è mai voluta essere discriminazione nei confronti ovviamente di queste persone che giungono sui nostri territori d'altronde si tratta di persone che evidentemente fuggono da situazioni di povertà, da situazioni di fame, da situazioni di guerra e quindi deve essere anche nostro compito ovviamente come ho detto prima elaborare un piano strategico nazionale non soltanto però ovviamente a livello locale ma questo occorre farlo a livello nazionale e a livello europeo però quello che mi vede fortemente contrario e contrariato allo stesso momento è questo piano di gestione dei flussi migratori che ritengo tra l'altro sia fortemente lesivo anche nei confronti della dignità delle stesse persone accolte che come dicevo prima fuggono da situazioni di povertà o situazioni davvero estreme, difficili per ciò che riguarda il loro stato di vita ma dobbiamo anche aggiungere che queste persone tra l'altro per la maggior parte molto molto giovani hanno una loro dignità e questa dignità io credo che possa trovare riscontro nel nostro territorio se a distanza poi di tempo riescono a insediarsi stabilizzarsi e crearsi un ruolo sociale all'interno della nostra società siccome visti quelli che sono i tempi molto spesso anche noi sindaci facciamo difficoltà a dare risposte ai nostri cittadini vogliamo chiamarli autoctoni o comunque residenti da tempo nei nostri territori io non vorrei che con questo modello che da tempo stiamo utilizzando creiamo false aspettative nei confronti di queste persone accolte che nel caso in cui non riescano poi ad insediarsi e a ritagliarsi come dicevo prima un ruolo anche sociale con una posizione di occupazione lavorativa necessariamente poi di lì a un po' di tempo potrebbero anche uso ovviamente il condizionale contraddistinguersi per dei reati sul nostro territorio non credo ce ne sia bisogno perché come molto spesso si dice abbiamo già i nostri che commettono alcuni reati da contrastare ovviamente sulla base di quelle che sono le diverse competenze ed è il motivo per cui come dicevo prima e ribadisco serve un piano generale di prevenzione di questo fenomeno e non soltanto di gestione della contingenza e dell'emergenza grazie grazie grazie